Ciao ragazzi, oggi ci alleniamo per migliorare il nostro dribbling in velocità e in campo. Io sono Luca e lui è Tommaso. Ciao ragazzi, ciao. 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 Il secondo esercizio è sulla rapidità, sulla velocità del dribbling. In inglese si chiama shuttles. Dopo ogni esercizio si fa 20 secondi di pausa. Ciao. 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 Grazie. Grazie. Ora facciamo un esercizio sul tribbling diagonale. Ogni esercizio avete 10 secondi di recupero. E se volete potete metterci un portiere. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.